Io ho lavorato per ben nove anni con molta difficoltà raccogliando documenti storici all'interno del Vittoriale e anche di altri archivi del Museo del Genio di Roma e un dannunzio inedito, come dicevo, un dannunzio uomo un dannunzio che è morto per l'Italia e ai miei lettori dirò perché dannunzio è morto per l'Italia per noi leggete il libro e lo scoprirete il dannunzio arriva nella mia vita perché volevo scoprirlo non era tra i miei letterati preferiti, ahimè però me ne sono innamorata scoprendo la sua storia la storia di uomo, la storia di poeta, la storia di eroe soldato ed è a lui che mi rivolgo in un momento storico in cui è importante il patriottismo e parlare di uomini valorosi che hanno combattuto per l'Italia e per quello che noi siamo oggi